Ciao a tutti cari ascoltatori meteo, ben trovati in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo In questo video andremo a vedere come saranno i prossimi giorni per quanto riguarda le previsioni meteo Perché sembra che qualcosa un pochino inizi a cambiare soprattutto verso la fine di questo mese, inizio di ottobre Scusate, di agosto Come possiamo vedere già anche nella giornata di oggi, nella giornata odierna e comunque nei prossimi giorni ci sarà un periodo di instabilità Un altro periodo di instabilità molto breve però lo proveremo durante il giorno del 30 di luglio Quando un minimo depressionario si avvicinerà alla nostra penisola Andiamo a vedere anche le precipitazioni come potrebbero essere portando nuovamente precipitazioni intense su settori settentrionali Come possiamo vedere anche da queste immagini Ovviamente il sud ci dispiace ma verrà quasi escluso ma come possiamo vedere invece nel nord ci saranno anche precipitazioni localmente abbondanti Le aree più interessate probabilmente potrebbero essere la Lombardia, il Veneto e il Trentino Dato che le precipitazioni potrebbero essere più abbondanti su questo settore Non escludiamo comunque possibili precipitazioni anche su Milamo e Romagna, Marchi, Toscana e Liguria Il rischio di alluvioni temporali comunque c'è Vi ringraziamo della visione e evitiamo ancora di iscrivervi al canale Lasciate un bel like e attivate la campanellina Non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo